Una persona seria, l'ho scelta io e l'ha confermata Paolo, sono legato a lui da un sentimento di stima, credo che abbia fatto bene ad andarsene perché nel momento in cui ha detto voglio tornare con Berlusconi è evidente che non poteva stare con Gentiloni, quindi è stato coerente. È uno di quelli per cui le idee sono più importanti delle poltrone, dopodiché le sue idee non sono le mie idee, però mi va a dire, avere un avversario politico che fa un gesto di questo genere, molto serio e molto rigoroso, preferisco uno che fa così e gioca pulito, come Gentiloni gli ha detto, dando di atto immediatamente, che non quelli che stanno lì con i piedi in due staff e che cercano di vedere come conservarsi la poltrona aggrappata sperando di avere un altro giro per i prossimi cinque anni, perché questo accade in alcuni. Costa è uno diverso, penso che se ha deciso di fare questa scelta non cambia niente per il governo che andrà a fine legislatura, ma è una scelta almeno di coerenza. Quanto a quelli che scendono dal carro del vincitore, io vorrei dirvi che è un'esperienza meravigliosa.